Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Molti di voi hanno chiesto di vedere la sfida tra i perdenti del torneo Quindi diciamo la terza e la quarta posizione Vogliono sapere se tu sei terzo o quarto o io sono terzo o quarto Sì però tu vincerai lo sai Perché? Perché sei creative Sto tardo E quindi Ok non vinco più Posso? Però potrei vincere lo stesso effettivamente i miei pokemon erano molto carini Facci tua Prima come le ricordo A posto Ok allora partiamo partiamo Immediatamente 200 pollicioni per un prossimo mini torneo ragazzi Saremo a 200 pollicioni prossimo mini torneo Ok Dai 3 2 1 Lancia Perché me l'hai lanciato? Così Hai schiacciato E no R Ah no io ho schiacciato Q addirittura Ah Lancia Vai E me l'hai tirato in faccia Fermo Tira Ok Ok adesso ci muoio male perché già ho visto che pokemon c'hai Ah io no L'ho visto Eh mo l'hai visto Ah Sai che non ho manco una mossa d'acqua Ah grazie per avermi lo detto Molto gentile Aia Però una mossa di piaccio E io c'ho una mossa di terremoto Aia No ha frizzato E' congelato No Quanto puoi essere merda No E' tipo morto male E' tipo morto male Allora Allora Fammi vedere chi metti dai Dai Combatto il pesce con il pesce Eeeh Chi è Proviamo Ah POM Come ha fatto a essere più veloce di remoraid Serpito Serpito ha tanta Ha tanta speed Tanta Tanta Che metti Serperion Non lo so Forse va bene Tanto trovo Aia Metti Metti di venari poi che manovro Ma tu hai finito di ciucciare Eeeh Il mio Serperion E' salito di livello Wow Nel 51 Io non so Non mi ricordo le mosse qua Oh Ciuccia 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 Eeeh Vai Serperion Ciuccia Mazzò quanto ciucciato poco Ti vede che non è bravo Aia Quindi I mosse di tipo erba Non gli fanno una mazza Per coso Per coso Per questo ma Eeeh Vai Hai ritirato Serpito Ho capito Mi rompevi il sedere Mamma mia No Non ha fatto nessuna tecnica Al tuo serio Ha fallito Ammizzato Sing Song Duda Duda Aia Ma perché tutti più veloci di me Ce l'hai i pokemon Ma veramente Se tu non leggi le scritte È normale Che tu pensi Male Ehi guarda Non ha effetto Perché Leggi Non me lo dice Che fa Dice normale Confide Ah ma hai diminuito l'attacco Grazie Ehm Ma sto poco Ma non devo fare niente A te No Ci cambia Ci cambia C'è rimasto poco Da cambia Che ti metto Vabbè Cambia Ma ciao Almeno a questo non gli fai danni E allora facciamo così Allora Ehm È un bormo dell'otta Aia Ma perché mi fai sempre danni No Non hai fatto neanche quello Neanche lotta Perché Io lo so perché Mamma mia Quando ti tiro questo Ehm Ah 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 io Questo si chiama dual shop È drago Ah 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 Se non ti ammazzo neanche col drago Ehm Vai giù di flim Ehm Ma sai perché non mi ammazzavi Eh Perché eravamo un bandazino Cavolo Ah 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 No provo lui Io non c'ho niente con pilota Crotl Crotl è d'erba E vabbè Ah 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 Vai dal shop Ah 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 Adesso ciuccio io Eh ciuccia ciuccia Ciuccio Aia Due volte perché? Perché si sta parassieme No merda Quindi ciuccio e ricciuccio Eh no è troppo così E ricciuccio Guarda Oh muro di vita E che te faccio Io c'è rischio Rischia 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 vai Ehm No Rischia Non mi muro di magia Grazie Dai Terperio Eh 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 Sì siamo uguali Lif tornato Oddio No no Non ho ciucciato Non ho ciucciato in fretta Troppo lento Eh ma sì Oh get it Metto Metto lui Io Sta solo questo Dai lift tornato Ah Fa poche Di capire Sì Abbiamo dei pauli Di merda Mega drain Eh tu Posso manco fare fascino Perché sei maschio come me Lel Oh grazie Mi hai dato un po' di vita Prego Prego Lei è stato molto gentile Gentile Grazie grazie Mi dia un altro po' di vita Aia Prego prego E io Sciuscio Ma secondo me fai sempre Mega drain Quello c'ho Cioè Non ha senso Flip tornato Ciao Saluto È morto Speria Ok Mi è rimasto lui Con dieci di vita Che non aveva mosse No questa gli fa male Dai La retta fa male Aia A posto Ah L'ha tenuto L'ha tenuto Alla fine Ah Che hai Come non hai fetto What Io volevo andarci Con un colpo leggero Invece Vabbè Non hai fetto Prego Ti prenda questa botta Aia Non hai fetto Ma anche questo Ma che cazzo Oh Solar beam Non hai fetto Sì è morto Sì ma non è questo efficace Sarà sì Che diamine Dovevo tirare al mondo A presto Allora Sto con la marba Voglio provare Vai Oh Cavolo Voglio provare Dai Boom Che miseria Scusa No è vero Che è leggero Che c'è Dove ho fatto No vabbè Ma io non c'ho mosse fuoco Ho perso Il mio grotto Non c'ha mosse fuoco Però è sempre Un tipo fuoco E poi a livello 70 Il mio rapido Allora Brilum Erba Di terra Gli fa schifo Bullcap Vai Aia Il mio rapido C'è la bullcap Cacchio Aumenta le due statistiche Non leggi? Eh non me lo dici Non leggi Ok Ok Ho perso Hai perso Erano tutti? Sì Ah Ho vitto Ho vitto Ho vitto Quindi Quindi sono Il più Il più forte Tra le pippe Sono il più forte Tra le pippe E qui Pippa Aia Perché è leggero Comunque Ragazzi Ci sarà una cosina Molto carina Molto presto Anderemo a fare una cosa Molto particolare Sempre su questa mappa E voi la vedrete In un altro momento Però non vi spoileriamo niente Perché siamo cattivi Lo dico io Lo dico io No No Lo dico Aia Lo dico io Una cosa Molto Fica Ok Va bene così Va bene ragazzi Lasciate un bel pollicione Condividete il video Iscrivetevi anche se siete nuovi Se arriviamo a 200 like Avrete immediatamente La prossima volta Un torneo Pixelmonlaki block Di nuovo mini Come questo qui Perché so che vi piace Quindi arriviamo a 200 like Mi raccomando E ci vediamo Alla prossima puntata Uga Muori 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 E' un'arico